Manca la neve ma il gelo è ormai arrivato nel nostro territorio. Nel Cortonesi si sono toccati i meno 8,2 gradi. Valori più freddi, come sempre nelle vallate più esposte, spiegano gli esperti di Arezzo Meteo, che mostrano i dati delle aree più fredde. Oltre al Cortonesi, nei dintorni della città, la zona più fredda, come sempre, è stata a Palazzo del Pero con meno 7,9. A Bibiena invece meno 7,7. A Ortignano lo stesso, meno 7,6. E così via nelle varie vallate, come ad esempio a Sansepolcro, meno 6,5. Secondo gli esperti di Arezzo Meteo, si tratta di valori freddi avuti in ben 10 differenti vallate e sicuramente ci sono ancora alcune zone non monitorate. Proprio per questo, per dare una mano a chi con queste temperature dorme in strada, il gruppo Facebook 6 di Arezzo 6, su iniziativa del suo amministratore Luca Fabri, ha lanciato una campagna di raccolta fondi, terminata lo scorso 6 gennaio, che ha permesso, grazie anche alla collaborazione di Decathlon, di acquistare dei sacchi a pelo. Saranno donati nelle prossime ore al Comitato Arettino della Croce Rossa italiana e saranno proprio volontari a distribuire i sacchi a pelo a chi ne avrà più bisogno.